Migliorano sensibilmente le condizioni di salute della sedicenne gelese, colpito al fianco sinistro con un coltello da uso cataneo durante una lezione di recupero scolastico all'interno dei locali dell'associazione Il Tempio di Apollo di Via Ventura a pochi passi dal centro storico di Gera. L'episodio si è registrato ieri intorno alle 12. La vittima assieme ad altri ragazzi era intenta a studiare quando all'improvviso il suo compagno di banco ha sferrato una coltellata. Il ragazzo ha cominciato a perdere vistosamente sangue mentre l'aggressore si è dato precipitosamente alla fuga. In quell'aula è successo il finimondo tra le urla degli altri compagni, attoniti e l'istruttore. Subito accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, alla sedicenne i medici hanno sotturato la ferita d'arma da taglio, la prognosi è di 10 giorni. Nei locali di Via Ventura si sono precipitati gli agenti di polizia del locale commissariato e quelli della scientifica che hanno rilevato ogni particolare, ogni dettaglio. Sono state raccolte le testimonianze di chi ha assistito all'episodio e subito dopo l'aggressore è stato rintracciato. Era a casa. Agli investigatori non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile sull'affattaccio compiuto. E' stato denunciato con l'accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di armi, arma che attualmente non si trova. Sarà stata gettata sicuramente durante la fuga. Sull'inquietante episodio un fascicolo è stato aperto dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, Simona Filoni.